Il numero 12 Lauda e il numero 7 Reutmann sono in prima fila, tra qualche attimo sapremo chi dei due avrà preso il comando della corsa, è partito leggermente in anticipo Lauda, Lauda che ha preso decisamente il via mentre vediamo in difficoltà il numero 14 Jean-Pierre Bertoise in questo momento come vi abbiamo già segnalato non viene osservata la chicane, vedete il numero 14 Jean-Pierre Bertoise che è in difficoltà con la sua BRM, dovrà togliersi presto da quella zona, al termine del primo giro verrà osservata la chicane operiante disposta dagli organizzatori per diminuire la velocità in quel punto del circuito, è in prima posizione nettissima da Nicchi Lauda con la Ferrari, seguito 3, 20 dal numero 7 Carlos Reutmann, segue il numero 8 Carlos Pacimo e il 28 Watson, quindi le posizioni sono rispettate, le tre Brabham si trovano esattamente in seconda, terza e quarta posizione, mentre in quinta posizione dovrebbe essere il numero 11 Clay Regazzoni, ecco il numero 12 che sta per portare, Lauda per portare a compimento il primo giro alla curva parabolica con le tre Brabham e poi ecco il numero 11 in quinta posizione Clay Regazzoni, quindi lo schieramento di partenza è stato rispettato al termine di questo primo giro. L'automobile nei primi tempi in cui appare